Partiranno lunedì 10 luglio i lavori di recupero, restauro e messa a norma di Villa Bernasconi a Cernobbio. L'intervento è possibile grazie al finanziamento del progetto Liberti Tutti da parte di Fondazione Cari, plobando patrimonio per lo sviluppo 2015, quattro mesi di cantiere per un investimento totale di 325 mila euro. L'intervento ha lo scopo di rendere più funzionali gli spazi del seminterrato e del sottotetto per poter accogliere i futuri visitatori. I principali lavori previsti sono il risanamento delle coperture, dei terrazzi e dei servizi igienici, recupero del piano seminterrato, potenziamento e completamento dell'impianto elettrico in base alle nuove funzioni, realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva. Il progetto Liberti Tutti, di cui il Comune di Cernobbio è capofila, è volto alla realizzazione di un innovativo polo culturale, un impegno che ha lo scopo di valorizzare questo gioiello Liberti e di proporlo al pubblico in una nuova veste, con modalità di gestione innovative che prevedono il coinvolgimento dei giovani e l'applicazione delle moderne tecnologie. L'intervento è finalizzato all'apertura di un vero e proprio polo culturale, una casa che parla per raccontare la sua storia e il suo legame con il territorio attraverso l'esperienza del Cavalier Davide Bernasconi e delle sue tessiture. L'obiettivo è rendere Villa Bernasconi una struttura strategica per il territorio e il suo sviluppo turistico attraverso museo e iniziative temporanee organizzate in collaborazione con altri enti turistici e culturali del territorio.